In questo film non è un film politico, non ci sono bandiere politiche, non ci sono tra l'altro cose lodevole, neanche parolacce e nonostante questo si ride molto, perché comunque è una commedia, ricordiamolo, una commedia molto leggera e molto molto divertente che richiama anche la commedia italiana che fu. C'è anche l'incontro dei personaggi con gli straniere, cioè con le persone che loro non conoscono, che incontrano durante il viaggio, ad esempio Stefano incontra la sua ex, che alla fine, non so se lo posso dire, se lo tagliamo, che incontra la sua ex e che in realtà ha trovato l'amore con un'altra donna e sono tutte persone positive, quindi c'è insomma anche la possibilità di incontrare sconosciuti. Ma sì, guarda Simone, noi ormai siamo come imprigionati, come se ci avessero, sai quando mettono le ganasce alle macchine, noi siamo un po' così, come se ci avessero messe le ganasce, siamo imprigionati sotto questa coltre di paura, di diffidenza, di rancore, di odio che trapela da tutte le parti e che non va bene perché chi odia non è felice, non può essere felice, non si è felice odiando gli altri e quindi l'umanità è piena di bella gente, veramente, cioè tu capiti, non so io sono un maniaco, salgo sui tassi, mi faccio raccontare le storie della vita dei tassisti, sei poco virtuale da questo punto di vista, sì ma però poi mi interessa anche quando sui social trovi delle cose che non siano quella rottura di scatole, gli insulti dagli uni agli altri, che poi trovi lo stesso che ha insultato, il commissario tecnico della Nazionale, il governatore della Banca d'Italia, il cuoco che è andato in televisione, ci sono gli insultatori di professione, ma la gente è straordinaria, è fantastica, l'Italia è piena di persone che si fanno in quattro per sé e per gli altri. Tornando al film, dicevamo di queste ambientazioni meravigliose durante il viaggio che fanno loro due insieme, dove l'hai girato questo film? Guarda, è girato tra Roma, la Toscana, l'Emilia, la Romagna e poi Parigi. Invece, per quanto riguarda, torniamo un attimo a parlare dell'essere bambini, in questo film una cosa che ho notato è che i bambini non sono molto malleabili come a volte si può pensare, c'è questo bambino, si chiama Giovanni, che è un bambino tra l'altro raffinatissimo, parla un italiano perfetto, parla inglese, francese, e infatti all'inizio si scontra molto con Stefano che è l'esatto opposto. Hai voluto comunicare anche questo, che insomma non è sempre facile, queste immagini del bambino facilmente plasmabili, non è così? No, no, io sono, guarda, ho fatto un documentario che si chiama I bambini sanno, perché i bambini, i grandi pensano, perché si scordano di come erano i loro bambini, i grandi pensano che i bambini siano degli oggetti da riempire con le loro, dei grandi idee, invece i bambini hanno una loro soggettività, hanno un loro pensiero, hanno delle loro domande, dei loro sogni, bisogna rispettarli, ascoltarli soprattutto, ascoltarli e quindi il bambino del film è un bambino che assomiglia, Giovanni è così, Giovanni, quello che chiamiamo attore, ha mai fatto l'attore in vita sua, era la prima volta che recitava, ma è riuscito a recitare perché è intelligente, c'è una scena del film, quando loro sono al ponte di Tiberio a Rimini e sono di schiena, con il gabbiano, quella scena lì Giovanni è improvvisato, che per un bambino di 13 anni, improvvisare mentre per la prima volta stai sul set, devi essere un bambino, appunto. Tra le ammettazioni mi ha fatto molto, non la conoscevo, sono sincero, non ammetto la mia ignoranza, questo paese che viene illuminato da questo specchio artificiale, come l'hai trovato? Ma questo l'ho trovato tra, è una storia italiana, di Ganella, ed è una storia vera, cioè il sindaco di questo paese, constatato che la sua comunità stava per alcuni mesi all'anno al buio perché sta in una valle, l'idea gli è venuta da una storia di Topolino, ha fatto piazzare uno specchio su una montagna e da questo specchio illumina la piazza del paese. Meraviglioso. Invece per quanto riguarda il lavoro bellissimo, molto poetico di Stefano Fresi, poco remunerativo perso, lui è il responsabile del CNR degli Arcobaleni. Per lo studio degli Arcobaleni in Italia. E lui si vanta perché sono uno dei massimi spazi, penso l'unico tempo che lo raggiungo io. Ma come ti è venuto in mente? Perché comunque è… Lo sai che non lo so, non lo so come mi è venuto in mente. Che è stranissima. Perché cercavo qualcosa che raccontasse una condizione di lavoro come sono gran parte dei lavori di oggi, precari, incerti, poco remunerativi, però che avesse dentro di sé un elemento di poesia, infatti a un certo punto c'è una scena con un prosaico presidente di banca ed è un conflitto di due mondi tra loro.